buongiorno ragazzi oggi 2 agosto io il consigliere macchia abbiamo iniziato a registrare lezioni nuove del rush finale dinamico quindi la fase numero 2 il 28 ci siamo visti per l'analisi della commissione ora vi accompagneremo per tutto il mese di agosto stiamo registrando le lezioni del 26 27 28 e 29 agosto che vengono immediatamente inserite in piattaforma e quindi potrete già iniziare a fruirne in modo da diluire e interiorizzare le cose ancora da studiare per il completamento della preparazione poi ci vediamo il 30 il 31 agosto il primo il 2 e il 3 settembre anche quest'anno vi accompagneremo fino alle prove scritte a presto